Nell'ultimo secolo dell'era precristiana, l'impero romano nel suo inarrestabile slancio espansionistico si spingeva oltre i confini conosciuti, desideroso di inglobare le selvagge terre germaniche. Al di là del Reno, vasto e tumultuoso guardiano naturale, si estendeva un mondo oscuro e misterioso agli occhi di Roma. La Germania magna, un insieme di tribù feroci e agguerrite. Qui il contrasto tra il raffinato ordine romano e la cruda libertà germanica dipingeva un quadro di inevitabile conflitto. Sotto il regno di Augusto, imperatore visionario e stratega, Roma cercava non solo di espandere i suoi confini ma anche di diffondere la sua cultura, le sue leggi, il suo modo di vivere. Credeva fermamente nella possibilità di romanizzare le popolazioni conquistate, trasformandola in fedeli alleati o meglio, in parte integrante dell'ecumene romano. Ma la Germania non era la Gallia, i Germani non erano i Galli. Il loro spirito indipendente, la loro società tribale e guerriera e soprattutto il loro attaccamento alla libertà erano barriere non facilmente superabili. Salve a voi, figli delle foreste germaniche. Io sono Arminio, principe dei Cherusci e condottiero delle tribù unite contro l'oppressione di Roma. Sono figlio di questa terra selvaggia e cresciuto tra i ranghi dell'esercito romano. Ho appreso da loro le arti della guerra e della strategia. Ma il mio cuore è sempre rimasto qui, nelle ombre profonde delle nostre foreste sacre, dove risuonano gli echi dei nostri antichi. Quando ho visto i miei fratelli piegarsi sotto il gioco romano, il disprezzo per quegli invasori ha preso fuoco nel mio petto. Roma, con la sua superbia e avidità, mira a dominare il mondo intero, riducendo i liberi a schiavi, sfruttando le nostre terre e le nostre genti per il proprio guadagno. Noi, figli di Votan, non siamo fatti per servire. Siamo nati per regnare sul nostro destino. Nel cuore di queste tensioni emerge la figura di Arminio, un giovane capo dei Cherusci. Cresciuto a Roma come ostaggio, educato nelle tattiche militari romane e divenuto cittadino romano e alleato, Arminio rappresentava il ponte tra due mondi. Tuttavia, dentro di lui ardeva un fuoco inestinguibile di lealtà verso la sua gente e un desiderio bruciante di liberare la sua terra dal gioco romano. Nel 9 d.C., la foresta di Teutoburgo divenne il palcoscenico di una tragedia che avrebbe echeggiato attraverso i secoli. Publio Quintiliovaro, governatore della Germania, ignaro delle trame ordite nell'ombra, condusse tre legioni romane, numerose truppe ausiliarie e un grande seguito di civili in quella che si rivelò essere una trappola mortale. All'alba dell'era comune, l'impero romano aveva già esteso i suoi domini in gran parte dell'Europa occidentale e meridionale, inclusi Gallia, Ispania e parti significative dell'attuale Balcani e Asia minore. Questa espansione aveva posto Roma in contatto e spesso in conflitto con diverse tribù germaniche al di là dei suoi confini settentrionali, principalmente lungo il fiume Reno, che fungeva da confine naturale. Tra queste tribù, i Cherusci emergevano come un popolo particolarmente influente, abitando le regioni che oggi corrispondono alla Bassa Sassonia e alla Vestfalia, in Germania. Prima della battaglia della foresta di Teutoburgo, i Cherusci e alcune delle tribù vicine erano alleati di Roma, beneficiando dei commerci e delle tecnologie romane, ma anche soffrendo le pressioni e le imposizioni dell'impero, incluse le tasse e il servizio militare. La situazione territoriale era quindi complessa, con alleanze che potevano cambiare rapidamente a causa di fattori interni alle tribù o di nuove politiche romane. Le tensioni crescevano sotto la superficie, alimentate dalle ambizioni espansionistiche di Roma e dal crescente desiderio di indipendenza delle tribù germaniche. Dopo decenni di conflitti e una lunga campagna di sottomissione guidata da Tiberio, l'imperatore Augusto aveva finalmente trasformato la selvaggia e ribelle Germania settentrionale in quello che Roma considerava una nuova provincia. estendendosi dal Reno fino all'Elba. Con la pacificazione apparente dei Cherusci e il controllo romano sembrante solido, Augusto credeva fosse il momento di integrare pienamente questa terra mediante l'introduzione delle leggi e delle istituzioni romane. A questo scopo scelse di affidare il governo della regione non a un generale, ma a un amministratore civile, Publio Quintilio Varo, un uomo che si era distinto per le sue capacità burocratiche più che militari. Questa scelta si basava sull'idea che la sensibilità di un burocrate avrebbe facilitato l'assimilazione culturale dei Germani, un popolo fiero che mal sopportava il dominio militare romano e le sue imposizioni. Salve, sono Publio Quintilio Varo, governatore della Germania Magna. Mandato qui per mantenere l'ordine in questo luogo barbaro e indisciplinato. Devo confessare, mi trovo incredibilmente frustrato da questo incarico. Gestire queste tribù indomite è un compito al di sotto delle mie capacità e speravo sinceramente in qualcosa di più degno della mia esperienza e del mio rango. Tuttavia, Varo sottovalutò gravemente il malcontento crescente tra le tribù germaniche. La sua gestione dell'amministrazione si concentrò sull'imposizione autoritaria delle usanze romane, ignorando le differenze culturali profonde e il desiderio di autonomia delle popolazioni locali. Trattando i germani più come vinti che come partner nella romanizzazione, Varo fallì nel riconoscere i segnali di una rivolta imminente, nonostante la storia recente offrisse abbondanti avvertimenti come la feroce resistenza incontrata in Gallia e le recenti insurrezioni in Dalmazia e Pannonia. Questa miopia strategica avrebbe presto portato a uno dei più disastrosi fallimenti militari nella storia dell'impero romano, evidenziando le complessità e le sfide dell'espansione imperiale in territori culturalmente divergenti e lontani dal cuore di Roma. La scelta di Varo come governatore simboleggiava la convinzione romana che il potere e la civiltà potessero essere esportati attraverso la burocrazia e le leggi, una convinzione che si sarebbe scontrata tragicamente con l'indomabile spirito di libertà delle tribù germaniche. Mi dicono che ci siano sussurri di ribellione tra le ombre di queste foreste, ma sinceramente, quanto può essere seria una minaccia da parte di queste genti disorganizzate? Sì, stiamo marciando attraverso la foresta di Teutoburgo, ma sono sicuro che il mio comando sarà sufficiente a soffocare qualsiasi tentativo di ribellione. Non vedo l'ora di concludere questa missione e di tornare a Roma, lontano da questa fredda e miserabile frontiera. Arminio, principe dei Cherushi, è una figura storica complessa e sfaccettata, diventato famoso per aver guidato le tribù germaniche alla vittoria contro le legioni romane nella battaglia della foresta di Teutoburgo. Cresciuto a Roma come ostaggio, fu educato nelle tradizioni militari e culturali romane, guadagnandosi la cittadinanza e l'amicizia di molti nell'elite romana. Tuttavia il suo cuore rimase profondamente legato alla sua gente e alla loro lotta per l'indipendenza. Il suo tradimento di Roma è visto sotto una luce di patriottismo e astuzia strategica, segnando Arminio come un eroe nazionale in Germania, ma anche come un simbolo della complessa interazione tra le culture romana e germanica. Publio Quintilio Varo era un amministratore e politico romano prima di diventare governatore della Germania. La sua carriera includeva il servizio come console e come governatore della provincia di Siria, dove gestì con successo questioni fiscali e amministrative. Le sue competenze erano maggiormente orientate verso l'amministrazione civile piuttosto che verso il comando militare. Questa predisposizione influenzò il suo approccio alla gestione delle nuove province romane, sottolineando l'importanza delle leggi e dell'ordine romano nella speranza di integrare e pacificare i territori conquistati. Il preludio alla battaglia della foresta di Teutoburgo vede Arminio, capo dei Cherushi, sfruttare la sua conoscenza delle tattiche militari romane per orchestrare una ribellione contro l'impero. Discontento per le pesanti tasse e le leggi romane imposte e motivato dal desiderio di indipendenza, Arminio uni diverse tribù germaniche in una coalizione. Approfittando della marcia di Varo e delle sue legioni attraverso un territorio difficile, Arminio pianificò un'imboscata in un'area boscosa e paludosa, ideale per neutralizzare i vantaggi tattici romani. Varo era in marcia per rientrare al campo invernale con le sue truppe, spostandosi attraverso un territorio ostile. Questo movimento era motivato dalla necessità di consolidare il controllo romano sulla regione e di rispondere a segnalazioni di rivolte locali. L'avvicinarsi dell'inverno aggiungeva urgenza alla marcia, poiché le condizioni meteorologiche avverse avrebbero reso il viaggio ancora più pericoloso e difficile. Questa urgenza, intrecciata con la fiducia mal riposta in Arminio, li condusse attraverso un territorio tanto maestoso quanto traditore, ignari del destino che la foresta, silenziosa e immutabile testimone, stava per riservare loro. Ho atteso per anni il momento giusto per porre fine al dominio romano e restituire le mie terre alla mia gente. Questa terra è dei Cherushi, ne siamo figli e non avremo nessuno che ci ridurrà in schiavitù a casa nostra. Ora finalmente mi si è presentata l'opportunità, l'occasione giusta per scatenare sui romani una tempesta tale da ricacciarli via. Sfrutterò al massimo questa occasione e verrò ricordato dalle mie genti come colui che ha liberato le terre germaniche dal dominio romano. Farò la storia. Sotto il comando delle tre legioni, la diciassettesima, la diciottesima e la diciannovesima, insieme a unità di supporto composte da tre squadroni di cavalleria e sei coorti di fanteria, oltre a un seguito di civili, Varo avanzò verso occidente. Si affidò alle direttive fornite dagli abitanti locali per la mancanza di familiarità sia con la strada intrapresa sia con la regione stessa. La fiducia incondizionata in Arminio era tale che Varo non aveva alcun sospetto verso di lui, convinto della sua lealtà senza riserve. Questa sicurezza era così profonda che ignorò gli avvisi di tutti, inclusi quelli di Segeste, che sarebbe diventato il suocero di Arminio, nonostante lo avesse messo in guardia riguardo a un imminente agguato. La riflessione che sorge è, perché Varo rimase così incredibilmente ignaro di ciò che molti altri percepivano? Anche se avesse avuto dubbi, avrebbe dovuto adottare misure cautelari. Soltanto una fiducia cieca può spiegare il rifiuto di accettare le critiche altrui di fronte all'evidenza. «Io sono Segestes, nobile germanico e suocero del traditore Arminio. Lui è un serpente che si nasconde nell'erba, pronto a colpire quando meno te lo aspetti. Ha oscurato il nostro onore con piani di rivolta contro Roma, la nostra alleata. Non posso rimanere in silenzio di fronte al tradimento di quell'infame. In questi momenti, mentre le ombre della foresta di Teutoburgo si addensano, Arminio trama l'imboscata che potrebbe distruggere tutto ciò che i germani hanno costruito con i romani. Sto cercando di avvertire Varo, il comandante romano, di questo tradimento vile. Mi oppongo a questa follia, non solo come leader, ma come uomo che crede nella lealtà e nell'onore. Non permetterò che il disonore di Arminio distrugga il nostro futuro». Arminio, d'altra parte, riuscì a diffondere il falso allarme di una ribellione vicino al massiccio di Calcrise, nell'area abitata dai Bructeri. Varo, disprezzando le voci che suggerivano la possibilità di un'imboscata al suo esercito in cammino attraverso un territorio sino ad allora inesplorato e attraversato da una foresta circondata da paludi, non adottò né strategie preventive né misure di sicurezza. In tal modo, Arminio riuscì a intrappolare le tre legioni romane nella congiura che aveva orchestrato, assumendo di fatto il controllo non solo del suo esercito, ma anche delle forze nemiche. I legionari romani, in violazione di ogni principio tattico militare romano, non furono disposti in formazione di battaglia. Invece furono condotti in territorio nemico in formazione di marcia, con i loro equipaggiamenti, totalmente impreparati per un confronto. Varo comandava tre legioni complete. Insieme a varie unità di supporto che includevano tre squadroni di cavalleria e sei cohorti, ammontando a un totale di circa 15.000 soldati delle legioni e 5.000 ausiliari, assumendo che le fila fossero al completo. Dall'altro lato, le forze di Arminio erano costituite da un esercito che variava tra i 20 e i 25.000 combattenti, provenienti dalle tribù dei Cherusci e dei Bructeri, e molto probabilmente anche dai Sigambri, Usipeti, Marsi, Camavi, Angrivari e Catti. Le legioni avanzavano stancamente attraverso una foresta fitta e selvaggia, in una marcia resa quasi impossibile da un terreno irto di difficoltà, dove ogni passo era una sfida. La colonna, estesa per oltre tre chilometri e mezzo, si muoveva in un mondo d'ombra dove il terreno era una trappola di dirupi e piante dense, un labirinto verde in cui la luce stentava a penetrare. La pioggia battente e il vento furioso erano nemici invisibili che frantumavano l'ordine e la disciplina, rendendo il cammino ancora più periglioso e disperato. Nel cuore di questa foresta, Varo e le sue truppe si trovavano non solo a combattere contro le insidie naturali, ma anche contro un nemico astuto e invisibile, i Germani, guidati dall'ingegnoso Arminio. Ex alleato, ora traditore, Arminio conosceva bene i segreti dell'arte militare romana, avendola appresa e perfezionata nelle file dell'esercito come ausiliario. La sua conoscenza dei luoghi e delle tattiche romane era il fulcro attorno a cui ruotava l'imboscata perfetta. Con una precisione chirurgica, Arminio aveva preparato il terreno della battaglia con un'attenzione maniacale per i dettagli. Aveva scelto un luogo dove la foresta e il terreno costringevano i romani in uno stretto corridoio tra una grande palude e una collina calcarea. Il Calcrise. Un'area così ristretta che non lasciava scampo. Dietro un terrapieno eretto con meticolosa cura, nascondeva le sue forze, pronte a scatenare l'inferno sul fianco sinistro delle ignare legioni romane. L'attacco fu un fulmine a ciel sereno. I Germani, sfruttando la loro profonda conoscenza del terreno, circondarono rapidamente i romani, colpendoli da distanza con una pioggia incessante di giavellotti, aste e frecce, per poi avventarsi su di loro con ferocia quando la resistenza romana vacillava. I romani, impreparati, disorganizzati e ingombrati dai loro stessi bagagli, non potevano né formare le proprie linee di battaglia né contrattaccare efficacemente. La superiorità numerica e la ferocia dei Germani fecero il resto. Nonostante le pesanti perdite alla fine della giornata, Varo riuscì a riorganizzare ciò che restava del suo esercito, accampandosi su un'altura boscosa. Ma era solo l'inizio. La battaglia della foresta di Teutoburgo sarebbe entrata nella storia come uno dei più grandi disastri militari di Roma. Una ferita nell'orgoglio dell'impero che mai sarebbe stata dimenticata. Al sorgere del secondo giorno, nel cuore di quella che sarebbe stata ricordata come una delle pagine più buie nella storia militare romana, la battaglia della foresta di Teutoburgo entrava nel suo secondo atto. Varo, con la determinazione di un comandante che rifiuta di arrendersi al destino, ordinò ai suoi uomini di abbandonare la maggior parte dei carri e tutti i bagagli superflui. Questa decisione, disperata ma necessaria, era volta a liberare le legioni dalle catene del fardello inutile, consentendo loro di muoversi con maggiore agilità e disciplina. Così, alle prime luci dell'alba i romani ripresero la marcia, formando schieramenti più ordinati, una colonna di ferro e volontà pronta ad affrontare le insidie che li attendevano. Nonostante le perdite subite il giorno precedente, la speranza non aveva ancora abbandonato i cuori dei legionari. Con lo sguardo fisso sull'orizzonte, il loro obiettivo era raggiungere Castravetera sulle rive del fiume Reno, dove il legato Asprenate avrebbe potuto portare aiuto. Era una corsa contro il tempo e la morte, una marcia che avrebbe imposto un tributo di sangue, ma la speranza di salvezza alimentava ogni passo. Tuttavia, la foresta sembrava estendersi all'infinito, un labirinto verde senza via d'uscita. In questo scenario, gli uomini di Arminio, padroni del territorio, lanciavano assalti implacabili. Conoscendo ogni angolo della selva, sapevano che la loro superiorità tattica risiedeva nel non lasciare ai romani il tempo di organizzarsi. In campo aperto, le legioni avrebbero potuto sfruttare la loro disciplina e potenza militare, ma in quel dedalo di alberi e ombre, ogni vantaggio si dissolveva come nebbia al sole. I romani, stretti in formazioni compatte in uno spazio ristretto, tentavano disperatamente di respingere gli attacchi. Cavalieri e fanti, schiena contro schiena, formavano un muro umano, cercando di trasformare la loro disperazione in forza. Ma il nemico era ovunque, e la foresta stessa sembrava combattere al loro fianco. Tra lo scontro dei corpi e il fragore delle armi, alcuni soldati inciampavano tra loro, o venivano intrappolati dalla morsa degli alberi, testimoni silenti e implacabili di quella tragedia. Il secondo giorno di battaglia si consumò in un susseguirsi di attacchi e controffensive, dove ogni metro guadagnato dai romani era segnato dal sacrificio. Le perdite erano ingenti, il prezzo del tentativo di sfuggire a quel tritacarne sembrava insostenibile. Eppure, nonostante la furia della battaglia e l'implacabile pressione del nemico, i romani non cedevano. Lottavano con la ferocia di chissà di non avere alternative, spinti dalla speranza di raggiungere il Reno, di tornare a vedere il cielo aperto oltre la tetra prigione di rami e foglie. Io sono Numonius Vala, legato delle legioni. Ci troviamo in un inferno inimmaginabile, circondati da ogni lato nelle oscure viscere della foresta di Teutoburgo. Gli alberi stessi sembrano volersi abbattere su di noi, e le urla dei miei uomini risuonano in un coro di terrore e dolore, mentre i barbari ci assalgono da ogni angolo nascosto. Il disordine è totale. La paura mi attanaglia il cuore. Non vedo altra via d'uscita se non quella della fuga. Devo salvare me stesso. Questa è la mia unica speranza ora, fuggire da questa trappola mortale prima che sia troppo tardi. Jupiter omnipotens ades et meserva. Al sorgere dell'ultimo giorno, il sipario si alzava su un atto finale carico di tragedia e disperazione per l'esercito romano, decimato e sull'orlo della disfatta. La battaglia della foresta di Teutoburgo, fino a quel momento un susseguirsi di scontri sanguinosi e manovre disperate, stava per scrivere uno dei capitoli più dolorosi della storia romana. La pioggia incessante e il vento furioso non facevano che aggiungere pathos a un quadro già di per sé desolante, rendendo il terreno un pantano inospitale, dove ogni movimento era un'agonia e l'uso delle armi diventava un'impresa ardua. In questo scenario apocalittico, i germani, guidati dall'implacabile arminio, trovavano nel clima avverso un vantaggio, grazie al loro armamento più leggero e alla profonda conoscenza del territorio che trasformava ogni loro attacco in un colpo fantasma, capace di colpire e poi svanire nella nebbia come se mai fosse stato. Il morale dei rinforzi barbarici si accendeva alla vista della resistenza romana che vacillava e il flusso continuo di guerrieri si riversava nel teatro di guerra con rinnovato vigore, pronti a dare il colpo di grazia a un nemico ormai allo sbando. In mezzo a questo caos, la figura di Publio Quintilio Varo emerge, tormentata e disperata, l'ombra di un comandante che, di fronte all'inevitabilità della sconfitta, sceglie l'onore del suicidio piuttosto che la vergogna della cattura. La sua morte, insieme a quella degli altri ufficiali di alto rango, segna il crollo definitivo del morale dell'esercito romano. La notizia si diffonde come un veleno, spingendo molti a scegliere la morte per mano propria piuttosto che cadere prigionieri dei germani. La battaglia si trasforma in una strage, con episodi di eroismo che si alternano a manifestazioni di disperata codardia. Lucio Eggio si erge come simbolo di resistenza, mentre Ceionio incarna il fallimento nell'atto estremo della resa. Numonio Vala, in un tentativo disonorevole di fuga, paga con la vita il suo atto di vigliaccheria. Un destino crudele per chi ha abbandonato i propri uomini. Il terrore si manifesta in tutta la sua crudezza nei confronti dei prigionieri romani, vittime della ferocia senza limiti dei germani. Caldo Celio, in un gesto di disperato coraggio, trova la morte sfidando le proprie catene, mentre altri subiscono sorti atroci, tra mutilazioni e tormenti indicibili. La foresta di Teutoburgo diventa così teatro di un sacrificio umano vasto e spietato, con i superstiti destinati agli altari delle divinità germaniche o alla schiavitù. Solo pochi, dopo anni, avrebbero guidato germanico nel pellegrinaggio macabro tra i resti dei caduti, in una scena di desolazione dove le ossa dei legionari giacevano sparse nel silenzio della foresta. Testimoni muti di un disastro che avrebbe segnato per sempre l'orgoglio e la storia di Roma. La disfatta fu catastrofica. Quasi ventimila soldati romani, tra legionari, ausiliari e non combattenti, persero la vita in quella foresta, in una lotta disperata per la sopravvivenza. Questo evento non rappresentò solo una perdita umana immensa per l'impero romano, ma infranse anche il mito dell'invincibilità romana, scuotendo profondamente il morale e l'orgoglio di Roma. La notizia della sconfitta e il suicidio del comandante Varo si diffusero come un veleno, lasciando un segno indelebile nella storia e nella psiche dell'impero. Le conseguenze della battaglia furono vastissime e di lunga durata. Roma fu costretta a ritirare i suoi piani di conquista e colonizzazione delle regioni a est del Reno, consolidando i confini lungo il confine germanico, con una serie di fortificazioni che si estendevano dal Reno al Danubio. Questo evento segnò il riconoscimento dei limiti dell'espansionismo romano e portò a un ripensamento delle strategie militari, soprattutto per quanto riguardava le campagne in territori difficili, come le dense foreste germaniche. Questo mio agire, alcuni potrebbero chiamarlo tradimento, ma io lo chiamo giustizia. Ho tradito Roma per essere fedele alla mia gente, ai miei dei, alla mia terra. Ho rifiutato di vedere la mia gente diventare una pedina in un impero, che non rispetta la sacralità delle nostre usanze, che calpesta la nostra libertà. Lottiamo insieme per mantenere viva la nostra libertà, per difendere la nostra terra, per garantire che le future generazioni di germani possano crescere libere, sotto i cieli aperti delle nostre foreste. Viva la Germania, libera e indomita. L'eco della battaglia della foresta di Teutoburgo riecheggiò attraverso i secoli, trasformandosi in un simbolo della resistenza dei popoli germanici contro l'invasore romano e ispirando numerose opere letterarie, artistiche e teatrali. Arminio, il leader delle tribù germaniche, fu elevato a eroe nazionale, incarnando lo spirito di libertà e resistenza contro un potere dominante. Dopo la battaglia della foresta di Teutoburgo, i romani effettivamente condussero diverse campagne punitive e di rappresaglia nei territori germanici, guidati da figure come Tiberio e successivamente da Germanico. Queste azioni non furono motivate tanto dalla paura dei Germani, quanto da un calcolo strategico e dal desiderio di vendetta e di ristabilire l'onore militare romano. Le campagne miravano anche a recuperare gli standardi perduti delle legioni distrutte, simbolo del recupero dell'onore militare. Le decisioni romane quindi furono influenzate da considerazioni politiche e strategiche più che da un semplice timore degli avversari. La scoperta archeologica del sito della battaglia nella zona di Calcrise aprì nuovi orizzonti alla ricerca storica, offrendo uno sguardo unico sulla vita quotidiana dei soldati romani e sulle dinamiche di uno degli scontri più significativi dell'antichità. La battaglia della foresta di Teutoburgo non fu solo il teatro di una sconfitta militare romana di vasta portata, ma anche l'occasione in cui la ferocia e la crudeltà dei ribelli germanici furono messe in mostra in tutta la loro brutalità. Questi atti di violenza, descritti in maniera vivida dalle fonti storiche, rivelano un aspetto oscuro e brutale della guerra antica, dove la vendetta e il rituale avevano un ruolo centrale. Le tribù germaniche, guidate da Arminio, non si limitarono a sconfiggere l'esercito romano. Approfittarono della loro vittoria per infliggere punizioni esemplari e umilianti ai prigionieri e ai caduti. La crudeltà manifestata non era solo un mezzo per instillare terrore negli avversari, ma aveva anche un profondo significato rituale e simbolico, legato alle credenze e alle pratiche religiose dei germani. Tra le azioni più efferate riportate dalle fonti vi sono mutilazioni orrende, come l'asportazione degli occhi, il taglio delle mani e persino la cucitura delle bocche dopo aver reciso le lingue delle vittime. Atroci testimonianze della furia scatenata contro i soldati romani sconfitti. Queste pratiche non solo servivano a demoralizzare ulteriormente il nemico, ma rappresentavano anche offerte crudeli alle divinità germaniche, in un contesto in cui il sacrificio umano aveva una forte valenza spirituale. Un episodio particolarmente significativo è quello di Caldo Celio, un giovane romano di nobile famiglia, che caduto prigioniero scelse di uccidersi colpendosi la testa con le proprie catene piuttosto che subire ulteriori torture. La sua morte, così come le sorti atroci di molti altri prigionieri, illustra la disperazione e l'orrore che dovevano aver pervaso i superstiti romani, testimoni della spietatezza dei loro carcerieri. Le fonti storiche raccontano inoltre di altari nei boschi sacri vicino al campo di battaglia, dove i germani sacrificavano i tribuni e i principali centurioni catturati, un chiaro segno del profondo intreccio tra guerra, vendetta e religione in questa cultura. La visione di Germanico, che anni dopo la battaglia visitò il luogo dello scontro, descrive un panorama macabro di ossa disperse e teschi conficcati sui tronchi degli alberi, simboli tangibili della ferocia e del dolore che avevano dominato quei giorni di conflitto. Questi racconti di crudeltà non solo ci forniscono un'immagine vivida della brutalità dei combattimenti e delle conseguenze della battaglia, ma sottolineano anche il profondo divario culturale e le incomprensioni tra romani e germani. La battaglia della foresta di Teutoburgo rimane un potente promemoria delle oscure profondità della natura umana e della guerra, un evento che ha segnato indelebilmente la storia dell'impero romano e delle popolazioni germaniche. In conclusione, la battaglia della foresta di Teutoburgo non è semplicemente una storia di sconfitta e disastro. È una narrazione potente di resistenza, di cambiamento e di come un singolo evento possa ridefinire il corso della storia, segnando i confini culturali e territoriali dell'Europa per millenni a venire. Un monito sulla fragilità della grandezza e sull'eterna lotta per la libertà. Con questo si conclude il nostro racconto sulla battaglia di Teutoburgo. Registratevi sul canale per non perdervi i nostri video. E lasciate un mi piace se questo racconto vi è piaciuto. Al prossimo video racconto.